Ecco, vicino a me ho Marco Mirko Guarise di Corteva e l'amico Benetti di Singenta, i quali sono praticamente i rappresentanti, anche se a livelli nazionali, ma sono i rappresentanti dei due prodotti. Uno, Axial One Benetti, che adesso ci dirà due parole sull'Axial One. Axial One è una miscela di Pinoxaden più Florazulam. È una miscela completa, in grado di controllare sia le graminace più frequenti nel nostro territorio, quindi mi riferisco in particolare all'Opecuro, Avena, Falaride e L'Oietto. Quest'anno, tra l'altro, queste infestanti all'Opecuro e all'Oietto si sono manifestate immediatamente, fin dall'inizio, particolarmente vigorose per via dell'andamento stagionale, ma come vediamo qui è stato completamente controllato il problema della malerba, in quanto non si vedono assolutamente nemmeno ricacci per quanto riguarda eventuali ceppi colpiti in prima battuta e poi dopo, come sovente capita in certe situazioni, avvengono delle ripartenze. Oltre al Pinoxaden, all'interno di Axial One troviamo il Florazulam, che è un dicotiledonicida in grado di controllare gran parte delle dicotiledoni che sono presenti sul nostro territorio, quindi mi riferisco a Gallium, a Papavero, in particolare diciamo che sul Papavero lì si apre una discussione un po' diversa perché ultimamente abbiamo delle situazioni di Papaveri che sfuggono al controllo di certi principiativi a cui appartiene il Florazulam e lì ci viene in aiuto una soluzione diversa. Volevo attirare l'attenzione degli spettatori e degli agricoltori su questo bellissimo impianto di grano e come potete vedere, pur avendo avuto una stagione particolarmente non adatta alla gestione dei grani, non c'è una pianta a terra. Passo la parola all'amico Guarise, il quale ci darà alcune delucidazioni per quanto concerne lo Zipar. Quindi abbiamo visto il controllo delle graminacee con Axial One e serve una spalla, serve un partner che è Zipar, che è un nuovo erbicide lanciato recentemente, che ha uno spettro di azione molto ampio, praticamente il più ampio sul mercato. Controlla le principali foglie larghe annuali, ma anche composite, ma anche perennanti vivaci. Parliamo anche di infestanti difficili come papavero, papavero resistente ad altri erbicidi, arriva Zipar, nuovo meccanismo d'azione, nuova molecola, Arilex, e controlla questi biotipi che sono molto, molto difficili, molto recalcitranti. Infatti non vediamo neanche un papavero in questo campo, ma controlla anche il gallium, l'amium, stellaria, viola, veronica, geranio, molte altre. Ma non è solo efficace, è anche veloce, è un centometrista, controlla infestanti in 24-48 ore, quando altri erbicidi richiedono molto più tempo, una o due settimane. Ma noi sappiamo che dobbiamo controllare bene, ma anche velocemente. È anche molto selettivo, abbiamo un antidoto agronomico all'interno del prodotto, e questo consente a Zipar di essere molto selettivo sulla coltura, anche in condizioni subottimali, se abbiamo un clima troppo caldo, o troppo freddo, o troppo umido, o troppo secco. Quindi performa sempre molto bene, anche in condizioni un po' difficili. È un prodotto ideale da miscele, si miscela molto bene da altri graminicidi, non altera l'attività graminicidi, anzi in certi casi la esalta. È un prodotto da filiera, è un prodotto pronto all'uso, facile da utilizzare, è molto affidabile. Quindi Zipar è sicuramente il miglior prodotto per le foglie larghe negli areali cerealicoli italiani. Bene, grazie mille all'amico Mirko Guarise. E in conclusione del discorso sui sonatine, volevo far presente che è un prodotto che ha anche delle ottime caratteristiche da un punto di vista molitorio. Infatti, come non vorrei essere ripetitivo, è entrato immediatamente in carta del mulino.